Ora, dice Padre Pio, se col battesimo ogni cristiano viene a morire alla prima vita e a risuscitare alla seconda, il dovere di ogni cristiano è cercare le cose del cielo, nulla curandosi delle cose di questa terra. Come ci dice San Paolo, siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Ecco, i segni straordinari che possono caratterizzare la vita di San Gesù e Piedacopertino, di Padre Pio, sono segni che veramente ci pongono in questa dimensione. Sono segni che ci aiutano a capire questa nuova vita nella quale il Signore ci ha collocato.